In bicicletta, vespa, autovettura, trascurando i grandi musei, privilegiamo i piccoli, quelli delle diocesi, se non ci sarà fretta. Sarà un giubileo. Siamo a Firenze, al Museo Diocesano di Pontevecchio, nella chiesa di Santo Stefano, una tra le più antiche. Troveremo la Madonna in Trono di Giotto, opera giovanile del maestro e per questo di maggiore freschezza pittorica. Notate gli angeli dall'aspetto femminile, con i capelli trattenuti da fasce in fronte, chiuse da laccetti rossi. Paiono sorvegliare dai pulpiti di intarsi marmorei e, non essendo adusi a stare in piedi, posano le mani sulla balaustra. Anche Maria ha una cuffia rosa che sfuma avvicinandosi a quella del mantello del bambino, ma si accenderà di porpora nella sua veste. L'impianto è simile a quella di ogni santi, ricca di personaggi, ognuno con doni di preziosa fattura. La precisione del disegno della mano di lei, la velatura del manto che dà corposità al seno coperto da un velo grigio raffinato. Una esultanza di colori. Alla loggia del bigallo venivano affidati i trovatelli. La confraternita, possiamo vedere la consegna grazie a Nicola di Pietro, assisteva anche i malati. Vestivano di nero, tutti incappucciati quando uscivano per seppellire i morti. In questa predella di altare del ghirlandaio vediamo Tobia e Tobiolo seppellire un morto proprio davanti al bigallo, mentre transitano i confratelli con un altro pietoso carico. Nella fresco della misericordia vediamo la città di Firenze, com'era nel 1342, con Battistero al centro, Santa Maria del Fiore, mentre era in costruzione accanto al campanile di Giotto. Di Bernardo c'è un trittico portabile che è un sunto del Vangelo. In alto, Cristo, con messaggio in papiro per una Gabriele di scarsa memoria. Sotto di questo, la Natività, e al centro Maria che allatta e a destra la crocifissione. Stupefacente è la Madonna dell'umiltà di Domenico di Michelino. Siamo attorno al 1460 e ritroviamo i colori di Giotto nella veste e la dolcezza nel volto di Maria. Nel museo di Santa Croce ha trovato pace un Cristo recuperato dalle acque dell'Arno nell'alluvione del 1966. L'opera è di Cimabue, che fu un maestro di Giotto. Salvato e restaurato anche San Ludovico di Tolosa con il David di Donatello. Siamo ormai nella piena culturale del rinascimento e deliziosi sono tutti i santi sul bastone pastorale. Restano lacerti della fresco di Andrea Orcagna, vissuto nel XIV secolo. Se la morte trionfa sopra la prudenza, insegna sotto il vessillo della delizia. Ove vi sono vescovi, cardinali, mercanti, sia cristiani che ottomani. Lasciamoli impegnati nel loro diletto per vedere l'albero della croce di Taddeo Gaddi. Fu coevo dell'Orcagna, ma di temperamento mansueto. Il crocefisso si trasforma in albero, i rami in resoconti della vita di Gesù. Tradito da Pilato, circondato, legato e sotto di lui frati francescani, cui la croce era stata affidata, prendono diligentemente annotazioni. Osserviamo che San Francesco non era ancora stigmatizzato. A Santa Maria Novella l'alluvione non risparmiò Noè né le sue vigne e neppure la sua ebbrezza. Il diluvio non è cessato. Si salvi chi può, diversamente che nuoti, magari a stile libero, devono imparare in fretta a respirare senza inghiottire l'acqua e chi non ce la farà la rigetterà. Continua a piovere. Mosè è dispiaciuto. L'arca è piena e qualcuno spera che in una botte di legno si possa galleggiare. La gente dimentica in fretta e si torna a far festa. Mosè spiega che Dio sopra di loro sorveglia, ma presto riprenderà la guerra. Questo quadro, come gli affreschi, sono di Paolo Uccello, ma qui è fuori luogo, poiché il quadro si trova agli uffizi. Entrando nel cappellone degli spagnoli, Andrea di Bonaiuto ci accompagnerà nell'allegoria della Chiesa e dell'Ordine Domenicano, formato da predicatori emeriti nel salvare i credenti da ogni eresia. Gli evangelisti meditano compostamente, ascoltando il predicatore. Le virtù sono discole, alzano la mano per salutarci. Il dito per chiedere la parola, mentre sulla destra, in fondo, curiosamente, un fabbro batte il tempo. E' fuori discussione, vuol sostenere Andrea, che la Chiesa trionferà sugli infedeli, i quali strappano Vangeli apocrifi e possono persino accedere alla discussione con i predicatori, ma ormai sono miti come agnelli fiduciosi, anzi credenti, pentiti per i peccati commessi. Se qualcuno pensasse di fare il furbo, l'allegoria dei cani che sgozzano dovrebbe incoraggiare la conversione. Seguendo la retta via, si sale tambureggiando, danzando verso i cieli alti. Uno zampognaro gigante ci mette un dubbio, lo stesso supponiamo, che pervade il personaggio a sinistra. Che sia realtà? Se lo è che ci sta a fare la scimmietta, il falcone, il violino rovesciato, è il caso di attraversare l'arco custodito da Pietro. Ma perché? Per restare ineterno a guardar su, ad ascoltar la stessa musica angelica, senza possibilità di diversa selezione? Oppure è preferibile prendere tempo per raccogliere i frutti che la natura benigna offre, incontrare amici e chissà magari l'amore? E con esso riparare nel castello? Dopotutto, l'esperienza terrena dell'uomo giusto che fu Gesù? L'arguto Andrea la racconta nell'arco. Fu costretto a portare la croce, su cui venne ammazzato come un ladrone, anzi tra i ladroni. A poco sono serviti i pianti, le preghiere delle Marie. La forza del ferro è forse superiore alla verità della parola? Sì, se così Dio ha disposto. Resta la fede nella risurrezione che sorprenderà gli apostoli e persino i diavolacci dietro l'angolo, preoccupati che Cristo possa discendere nel limbo. Spostiamoci all'opera del duomo. Ci attende la pietà di un Michelangelo ormai settantenne, che include se stesso nella figura di Nicodemo. Chi fu mai costui che di notte ed in segreto, presagendo la morte, chiese a Gesù se si poteva rinascere? Lo racconta l'Apostolo Giovanni. E le affinità tra lo stato d'animo dell'artista e quelle del suo personaggio rende ancora più affascinante il capolavoro. Il corpo di Cristo pare essere la prosecuzione di quello di Nicodemo, anzi di Michelangelo, che con il capo cerca conforto sulla spalla di Maria. La nostra emozione si congela di fronte alla rigida figura di Bonifacio VIII, un'icona vivente di Arnolfo di Cambio. Leon Battista Alberti la definirà statua virile. E, conoscendone l'indole battagliera, ci sorprende che non si alzi d'impeto dallo scranno per imporci una qualche sua decisione. Michelangelo si servirà di questo esempio di potenza immobile per il suo Mosè Romano. Osservate questa Madonna, agli occhi di vetro, fu scolpita da Arnolfo di Cambio ai primi del Trecento. È una vergine fuori dal nostro spazio, dal nostro tempo, o piuttosto una matrona romana orgogliosa d'aver generato un futuro senatore. Dello stesso autore è questa donna sdaiata sul triclinio, in vero una natività che dovete immaginare accanto ad altre statue per formare una mirabile rappresentazione. Abba Cuc, il profeta opera di Donatello, cammina lentamente sulle pietre del deserto, per quanto sia in pieno vigore fisico. Il sole gli ha seccato le labbra, ma gli occhi vedono lontano. Maddalena, penitente, non si sa se prima o dopo l'incontro salvatore con Gesù. Sdentata, vestita solo dei suoi lunghi capelli, mostra muscoli virili, mani più grandi del suo scarno volto. Donna, uomo, il dolore implorante non conosce il genere. Infine, un San Sebastiano insolito, ridotto a puntaspigli, appeso ad un palo, bersaglio facile per gli arcieri. È tempo di una pausa. Riprenderemo, restando nei paraggi. TPRT Riprenderemo.com . Riprenderemo.com . . .